muraglia cinquantenne trovata morta dentro casa san bartolo ritrovato in auto il corpo senza vita di un ottantenne vl per il sociale a casa tabanelli donati bici e tavolo da ping pong technowool rugby park il nuovo nome all'area di via scarpellini dal 3 al 6 maggio torna il festival percorsi una buona serata cari amici e amiche di rossini tv per questa nuova edizione del rossini news telegiornale di venerdì 28 di aprile che apriamo con la cronaca una donna cinquantenne è stata ritrovata morta quest'oggi nella sua abitazione nel quartiere di muraglia la donna era già nota le autorità per essere una consumatrice di stupefacenti sul posto sopraggiunti gli uomini della polizia della scientifica ma al momento sulla vicenda non è stata fatta trapelare alcune ipotesi le indagini sono ancora in corso per chiarire le cause del decesso della donna e ancora cronaca giallo sulla morte di un ottantenne di pesaro che ieri sera è stato ritrovato senza vita a bordo della sua auto in una stradina del monte san bartolo una stradina nascosta all'interno di una radura del parco san bartolo è stato luogo di ritrovamento di un corpo senza vita su cui gli inquirenti stanno ancora indagando nella serata di ieri giovedì 27 aprile una macchina luci spente con gli sportelli aperti ha attirato l'attenzione di un passante che avvicinandosi si è trovato davanti ad un corpo esanime riverso sui sedili si tratta di un pesarese di 80 anni che secondo i primi soccorsi sembrerebbe essere stato colpito da infarto o da un malore improvviso che non gli ha dato via di scampo c'è però un aspetto importante ancora da chiarire pare infatti che l'uomo sul monte san bartolo non fosse da solo e che con lui ci fosse una donna polizia e medico legale hanno effettuato una ricognizione sul corpo per cercare eventuali segni di collutazione ma di tutto ciò non c'è traccia così come non sono rinvenuti tra gli effetti dell'uomo circa 700 euro che secondo i familiari aveva con sé per effettuare dei pagamenti a pochi metri dall'abitacolo della macchina è stato ritrovato il cellulare dell'uomo tutto però fa pensare ad una morte per cause naturali il magistrato ha però disposto l'autopsia per fare massima chiarezza sull'accaduto mentre la polizia tenta di rintracciare la donna ed è stato condannato a due anni di carcere un 56enne pesarese per violenza sessuale lieve su una ragazza amica di scuola di sua figlia i fatti risalgono al 2012 quando la ragazza all'epoca 15enne andando a casa della sua compagna per fare i compiti veniva palpeggiata e più volte dall'uomo all'interno delle mura domestiche per il condannato anche un risarcimento di 15 mila euro alla ragazza ormai maggiorenne e 10 mila a favore dei genitori la famiglia lesa ha deciso di presentarsi al magistrato al termine di un percorso psicologico seguito dall'ormai 26enne altro episodio di maltrattamento che ha portato dietro le sbarre un trentenne di cattabrighe per aver riempito di botte la sua compagna facendola finire in ospedale con delle costole rotte pugni e calci che rappresentavano l'ennesimo momento violento dell'uomo sulla donna 44enne i fatti risalgono al marzo 2022 quando le urla della donna avevano indotto i vicini a telefonare alle forze dell'ordine 30 giorni di guarigione per la donna prima di decidere una volta per tutte di denunciare il compagno il tribunale di pesaro ha condannato l'uomo a tre anni e tre mesi di carcere e cambiamo ora argomento passando al gesto di solidarietà della carpegna prosciutto basket pesaro a favore di casa tabanelli vediamo di che cosa si tratta all'interno del prossimo servizio la carpegna prosciutto basket pesaro si schiera ancora una volta a favore del sociale quattro biciclette un tavolo da ping pong sono stati donati questa mattina dalla società biancorossa a casa tabanelli struttura di proprietà della fondazione lions e gestita da caritas è un importante contributo soprattutto è un segno importante di vicinanza è proprio la volontà di vivere un territorio in maniera nuova in maniera diversa e questo ci fa molto piacere la vl e la carpegna prosciutto e la famiglia beretta hanno deciso di abbracciare la fragilità facendo un progetto con caritas e di questo ne siamo veramente molto grati è stata effettuata questa raccolta fondi in cui sono state donate quattro biciclette nuove e questo per noi molto importante perché sono da restituire agli ospiti della casa per potersi recare al lavoro e per poter vivere una socialità nella città di pesaro in maniera diversa e questo è una cosa molto importante proprio perché l'obiettivo della casa è quello di reinserire le persone nel mondo del lavoro e per cui questo ci aiuta in questo processo un'altra cosa che è stata donata è un sembra quasi una banalità invece una cosa molto importante un tavolo da ping pong per stare qui dentro la casa e questo ci aiuta a lavorare sulla socialità degli ospiti a creare un ambiente positivo a creare un ambiente in cui le persone hanno voglia di stare insieme perché ormai sappiamo che le relazioni e la cura delle relazioni sono proprio alla base di un cammino di riscoperta di se stessi e di risoluzione della povertà un gesto magnanimo che è stato reso possibile grazie all'iniziativa warm up your passion con la vendita di 13 sopra maglie che i giocatori della vl hanno indossato nel pregara del match del 21 gennaio scorso contro verona ogni canotte è stata acquistata online al prezzo di 150 euro noi siamo sempre disponibili a renderci partecipi per realizzazione diciamo di queste iniziative di solidarietà importante perché con l'acquisto di biciclette piuttosto che di un tavolo da ping pong si rende diciamo la casa più più abitabile più vivibile più in senso molto di amicizia ecco quindi noi siamo riusciti a raccogliere questi fondi attraverso la vendita di sopramaglie che abbiamo utilizzato in una partita di di campionato sopramaglie particolari disegnate apposta per l'occasione e devo dire che il ringraziamento più grande va a chi a tutti quegli appassionati e tifosi che hanno acquistato l'acquisto delle maglie è stato veramente velocissimo perché la settimana dopo erano già esaurite quindi il ringraziamento più grande va a loro noi siamo stati diciamo partecipi di questa iniziativa ma il ringraziamento più più grande va a questi tifosi che le hanno acquistate hanno permesso la realizzazione di questa iniziativa quello che noi proviamo a fare nelle giornate in cui siamo con loro è semplicemente farli sentire un po anche anche a casa c'è un episodio che mi ha colpito perché qualche tempo dopo che avevo iniziato a fare il volontario ho incontrato uno di loro in centro l'ho subito salutato e lui quasi si era stupito che lo salutassi perché forse non gli capita mai che qualcuno della città di pesaro lo saluti lo faccia sentire cittadino pesarese e questo mi ha fatto capire quanto sia importante per loro avere un compagno anche durante durante le giornate che passano qua in città quanti ospiti ci sono e quali servizi possono usufruire al suo interno generalmente il numero varie dai 10 ai 12 quando veniamo noi a fare servizi ne troviamo sempre questo numero gli diamo la possibilità di di cenare con noi insieme a noi dormire la prima colazione e poi chiaramente loro vanno escono dalla casa e fanno le loro attività chi lavorative chi in cerca di lavoro quell'obiettivo è quello di avere un punto di riferimento certo per poi avere la possibilità di integrarsi più possibile nella nostra società nella nostra città grosse novità riguardano il porto di pesaro nel corso di un confronto tra l'autorità portuale del mare adriatico con il comune di pesaro è emersa la pianificazione delle attività di dragaggio per il quale è previsto un investimento di un milione e 800 mila euro una cifra che prevede anche la realizzazione di una vasca di colmata altri obiettivi principali sono legati al potenziamento dell'accessibilità e delle movibilità terrestre allo sviluppo dello scalo della cantieristica navale e della nautica del di porto il sindaco di pesaro matteo ricci ha ufficialmente dato il via alla stagione balneare 2023 l'ordinanza sindacale indica l'inizio fissato per domani sabato 29 aprile e il termine previsto per domenica 17 settembre nella stessa ordinanza vengono riportate le aree comunali adibite alla balneazione le aree in cui non è adibita e quelle in cui esclusa ovvero la zona porto lo spettacolo manfred di maria alterno e richard pareschi giunge in scena venerdì 5 maggio alla chiesa dell'annunziata di pesaro per teatro oltre festival ideato e realizzato all'insegna della multidisciplinarietà dall'amat con il comune di pesaro lo spettacolo inizierà alle 21 è in lingua inglese con sottotitoli in italiano ed è sconsigliato ai minori di 14 anni ed è partita la 37esima edizione della regata pesaro pola oggi pomeriggio alle 16 le barche sono partite dal porto di pesaro in direzione croazia la novità è che da quest'anno c'è solo una manche per decretare il vincitore sono circa 45 le imbarcazioni attese di cui la gran parte da fuori gli equipaggi arrivano da cattolica rimini cesenatico ravenna ancona porto civita nova la più lontana proviene da ortona le premiazioni finali sono fissate per sabato 6 maggio tecnowool rugby park è stata intitolata così l'area verde che include anche i due campi da rugby della fiorini pesaro in via scarpellini tecnowool rugby park è stata intitolata così l'area verde di sei etteri in via scarpellini che sorge attorno ai due campi della fiorini rugby pesaro oltre al toti patrignani in erba e al catalani in sintetico il parco prevede anche un'ampia area verde per gli amanti dell'attività fisica una palestra gli spogliatoi la clubhouse e le strutture di accoglienza e oggi siamo qui a togliere il lenzuolo dall'insegna che abbiamo posizionato a bordo del di quest'area è un rugby park l'abbiamo chiamata un po' seguendo la moda anglosassone dei campi da rugby e anche perché di fatto due campi in erba una zona verde si presta bene ad essere nominata in questo modo ecco sempre più un punto centrale di questa città sono dei giorni che solo per il parco il parcheggio pieno di auto e quindi sta diventando un luogo centrale una seconda grande zona verde dopo il miralfiore quali attività si possono svolgere all'interno del parco ci sono diverse strutture intanto noi ci occupiamo di quella del rugby e abbiamo un'attività agonistica con una prima squadra in serie a ma abbiamo tante attività per ragazzini di tutta l'età che vogliono iniziare questa pratica e giocare al rugby qui vengono a passeggiare tantissime persone ci sono strutture anche da calesteni che qui vicino che sono molto scelte dai ragazzi per passare il loro tempo in qualsiasi condizione atmosferica veramente notevole l'impegno che mettono è una zona che merita di essere frequentata sicuramente ma il rugby è la cosa che noi ci interessa di più e quella per la quale stiamo lavorando tanto insomma diversi anni tecnowool opera nel mondo dell'efficientamento energetico ed isolanti di materiali da costruzione nata a milano nel 1988 l'azienda si è poi espansa insediandosi anche a pesaro due anni fa riscontrando grandi soddisfazioni da parte dei clienti dell'impresa un rapporto che con la città si è consolidato divenendo il secondo sponsor più importante della pesaro rugby dopo fiorini la nostra visione aziendale il nostro tipo di organizzazione ripeto c'è stato molto semplice affiliare diciamo e seguire il progetto che c'è anche simone mattioli qualità di presidente ci ha proposto insomma quello di intitolare questa meravigliosa area insomma di sport ricca di entusiasmo di giovani alla nostra azienda che è un modo da una parte anche per dare un segnale di riconoscenza alla città che due anni fa ci ha accolto quando abbiamo aperto la sede di pesaro ed è un modo anche per avvicinarsi sempre più anche noi imparare dal mondo del rugby a come come si si come si sta insieme come si portano a casa gli obiettivi dal rugby al calcio 5 domenica little service pesaro sarà alle prese con un delicato match casalingo che la vedrà affrontare la fel di eboli sono fondamentali i tre punti a little service pesaro calcio 5 serve un'impresa nel prossimo turno domenica le 18 e 15 i biancorossi accoglieranno al palafiera la fel di eboli seconda in classifica meno 4 dalla capolista napoli i ragazzi di mister colini vengono da due vittorie due pareggi nelle ultime quattro di campionato e per cercare di evitare i play out sono a caccia dei tre punti gli stessi che li separano dall'ultimo posto in zona salvezza occupato dalla niene alla vigilia della partita la classifica recita it al service 34 punti fel di eboli 55 e pensare che lo scorso anno fu finale scudetto con la squadra di pizza festeggiare il terzo tricolore consecutivo in questa stagione però le ambizioni dell'ital service hanno dovuto fare i conti con la realtà a due giornate dal termine tra i biancorossi e la sua inseguitrice monastir ci sono attualmente 5 punti di distanza e i play out non si giocheranno se ci saranno almeno 8 punti fra le due contendenti pesaro vincendo adunque due opportunità staccare di altri tre punti il monastir e cancellare i play out oppure rimontare e sorpassare chi la precede in zona salvezza certo è che l'ital service dovrà portare a casa sei punti tra fel di eboli e padova all'ultima giornata se vorrà essere certa di un finale di stagione festoso e senza preoccupazioni dal 3 al 6 maggio torna il festival percorsi un programma ricco di appuntamenti con il tema della violenza di genere al centro del dibattito un programma ricco perché abbiamo 11 eventi sottolineo a ingresso gratuito perché sono tutti liberi e ad accesso appunto per tutta la cittadinanza del territorio di pesaro urbino perché è un festival provinciale siamo con diversi eventi a pesaro infatti apriamo a pesaro il 3 maggio al teatro sperimentale e questa apertura del festival con uno spettacolo teatrale che da tanto tempo volevamo portare nella nostra città tutto quello che volevo per poi proseguire a urbino e fano con altri appuntamenti e sempre a pesaro nella giornata di venerdì con mostre concerti conferenze tante tematiche affrontate tutte con un trade union che quello appunto del contrasto alla violenza di genere tramite la sensibilizzazione verso tutta la cittadinanza e quest'anno abbiamo scelto di trattare il tema della violenza di genere attraverso la figura delle donne delle donne che nella storia nel presente e speriamo nel futuro possono fare la differenza le esplorando il passato vivendo il presente quello che ci arriva e che tutte le donne di cui noi parleremo nei quattro giorni di festival sono state toccate in qualche modo da una forma di violenza di genere nel futuro vogliamo che questo non debba più accadere e questo è l'impegno che percorso donna prende con il festival percorsi anche quest'anno l'evento è patrocinato dai principali dalle principali istituzioni della nostra provincia quindi ringraziamo la provincia di pesaro urbino il comune di pesaro di fano e di urbino la commissione pari opportunità della regione marche che anche quest'anno appunto ci ha dato il suo sostegno suo patrocinio e un'importante novità quella del dell'alto patronato quindi il patronage del parlamento europeo questo a richiamare insomma il valore che viene dato da da tutte le istituzioni alle tematiche da noi affrontate ringraziamo inoltre tutti veramente tutti i nostri sostenitori che sono tantissimi li troverete tutti nel programma sul sito percorso donna punto com e sui nostri canali social e con questa notizia si conclude qui questa nuova edizione delle rossini news prima di salutarci però vi ricordo gli appuntamenti di serata questa sera infatti alle ore 21 20 ci sarà la terza puntata dedicata a cosmolife l'azienda di rio salso che questa sera appunto andremo a scoprire in maniera ancora più approfondita con la terza puntata dedicata alla linea essenza di luce e poi vi ricordo l'appuntamento anche per domani mattina alle ore 7 20 in diretta la rassegna stampa dei quotidiani della provincia di pesaro urbino con buongiorno rossini ad aspettarvi e a raccontarvi di queste notizie ci sarà antonio astuti e con questi appuntamenti vi auguro un buon proseguimento di serata